Pensa che scoprirà qualcosa in queste ore qui? Io credo che scoprirò qualcosa in più. Potrò meditare e riflettere come Padre Pio abbia vissuto una vita nella sofferenza in Cristo, e noi viviamo in questo momento, nella storia dell'umanità, una grande sofferenza a causa della pandemia e che sperimentiamo indirettamente o indirettamente e che dobbiamo in qualche modo prendere come un'occasione propizia per una riflessione profonda. E Padre Pio ci ha dato l'esempio perché tutta la vita sua è stata informata in questa immedesimazione alla croce di Cristo perché la stigmatizzazione è un segno visibile della sua assunzione e della sua immedesimazione alla passione di Gesù. Durante la pandemia come comunicava con Papa Francesco? Bene, comunicavamo per messaggi. Su WhatsApp proprio? No, diretto no, perché il Santo Padre non ha diretto attraverso i segretari, eccetera. oppure per telefono, ecco, non ha un telefono fisso proprio. La mia sorpresa è sempre quella di vedere con attenzione che nel mio WhatsApp c'è un numero che quando vedo sconosciuto subito penso che c'è qualcosa di speciale. Io sono stato nominato dal Papa come segretario generale del Sinodo il 21 settembre del 2013 e immediatamente, una settimana dopo, c'è stata la riunione al Sinodo, all'istituzione, per poter cominciare i lavori. e era già stato lanciato il tema sulla famiglia. La famiglia. Abbiamo preparato in otto mesi il primo Sinodo, che l'abbiamo chiamato straordinario, sulla famiglia. In otto mesi. Una cosa veramente rapidissima. Poi c'è stata una riflessione, ho detto, no, dobbiamo ancora ritornarci sul tema, un altro anno, quindi nel 2014, ancora la famiglia, quindi insieme. C'è stato un passaggio ancora di un anno, poi i giovani. Dopo i giovani è l'Amazonia. Noi abbiamo fatto lì al Sinodo in sei anni quattro Sinodi. Super lavoro, però io volevo qualche piccola storia. La storia è questa, che quello che è stato molto interessante per quello che mi concerne è il Sinodo dei Giovani. La famiglia, naturalmente, ha la sua importanza. Ma sui giovani. I giovani sono stati splendidi. Noi abbiamo fatto un presidio proprio per loro. Prima del Sinodo di tutti i vescovi, che venivano, secondo le forme istituzionali, abbiamo voluto interessare i giovani, metterli davanti come protagonisti. E sei mesi prima abbiamo organizzato per loro una settimana dove si proponeva il tema e si svolgevano i lavori come se fosse un Sinodo grande. Loro sono stati gli attori principali, ma è stato splendido. E lei ha avuto un ruolo di conoscerne qualcuno singolarmente. Bellissimo, bellissimo. Per esempio, ho conosciuto di tutto il mondo, del Vietnam. Ho conosciuto un ragazzo stupendo che rappresentava, addirittura faceva anche il presentatore. C'è stato un momento, il giorno dopo della riunione, abbiamo organizzato una serata di festa per conoscersi, perché loro venivano da tutte le parti del mondo dove uno qualche... Quindi non l'hanno fatta tra loro? Allora... C'eravate pure voi un po' più? C'eravano più. E poi, naturalmente, io che sono pure pianista, quindi mi sono inserito e è stata una cosa bellissima. Anche quando... Che ha suonato in quell'occasione? Che ha cantato? Dunque, lì... No, io non canto, non canto, sono... Io sono un po'... Ero un grande cantante, vorrei dire, quando ero bambino. Veramente avevo una voce stupenda, prodigiosa. Ma ci sono stati due momenti. In quel momento lì del Presino e poi nel Sino lo stesso, che ecco, lì ho fatto un love story famoso. Bello, il tema del film. Che è il tema del film. Sì, sì. Poi ho fatto anche... Molto bello. Ho fatto un Debussy. Qui andiamo più... Poi... Più in alto. Sì. E anche in omaggio al Papa, durante proprio il Sinodo Grande, ho fatto un pezzo di piazzolla a Dios nonino, che è come un canto nazionale per loro, come per noi, che so io, è Fratelli d'Italia, oppure come va pensiero, per le Argentine. Lei spazia molto, complimenti.